Nessuno indietro, nuovo progetto del gruppo medico d'archivio in collaborazione con l'amministrazione comunale di Giulianova. Abbiamo voluto fortemente questo progetto in questa fase così particolare in cui la pandemia ha accentuato già le già note problematiche economiche del territorio e quindi appunto in collaborazione con l'amministrazione comunale di Giulianova abbiamo scelto nella lista delle persone meno ambienti un gruppo di persone, di donne questa volta, da sottoporre gratuitamente allo screening mammografico. Inizieremo la settimana prossima per le donne che hanno voluto aderire a questo progetto e sarà esteso poi nei mesi successivi ad altre categorie, ad altre persone, sempre in collaborazione con l'amministrazione comunale di Giulianova.